Ho comprato l'iPhone 16 Pro e oggi vi dico le mie prime impressioni. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Dopo qualche ora di utilizzo voglio parlarvi dell'iPhone 16 Pro, il più compatto dei due, che visti gli ingombri contenuti rispecchia il mio stile di utilizzo. iPhone che mi è appena arrivato, più in avanti ci sarà anche la recensione completa, ma prima devo provarlo a dovere, farlo oggi al lancio non avrebbe avuto molto senso. Ora cari amici, io sono un recensore, non un fanboy, i miei gusti quando provo un prodotto vengono messi da parte, altrimenti se non lo facessi farei la fine dei giornalisti che non sono in grado di dare una notizia senza alterarla secondo i loro ideali. Altra cosa importante, chi mi segue anche su TikTok lo sa, a proposito iscrivetevi. Utilizzo oramai da tempo entrambe le piattaforme, sia Android che iOS, come utilizzo Linux, Windows e anche Macintosh. Ripeto, sono un informatico, non un amatore della domenica, e volendo utilizzare una frase famosa, lo saliere del re deve conoscere tutti quanti i lati di cavalli, e cari amici, vi posso garantire che io ne conosco davvero tanti, ovviamente. Metaforicamente parlando, detto ciò, qualora non l'aveste già fatto, potete supportarmi con un like se il contenuto è stato di vostro gradimento, di iscrivervi al canale, mi raccomando, commentate in modo da farmi capire le vostre opinioni. Poi se volete assistenza in formatica gratuito, più semplicemente un consiglio, scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale supporto Telegram, aiuto veramente tutti. I link vi lascio nell'info box qui sotto, dove trovate anche i riferimenti per il nuovo canale WhatsApp, dove ci sono un sacco di chicche selezionate e interessanti. Ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a vedere un po' più da vicino le novità introdotte da questo iPhone 16 Pro. Partiamo subito dalla cosa più evidente, ovvero il materiale, anche quest'anno nei modelli Pro e solo in quelli, è stato utilizzato il titanio, che dovrebbe mantenere basso il peso, ma in realtà non è proprio così, in quanto, cari amici, c'è stato un aumento da 187 grammi del 15 Pro ai 199 grammi di questo 16 Pro, rendendolo più vicino, in questo senso, al fratello 14 Pro, che ne pesava 206. Sì, lo so che lo schermo e la batteria sono più grandi, ma per me, 199 grammi per un telefono così compatto, sono tanti e in mano si sentono. Ho notato che nell'utilizzo senza custodia i bordi trattengono le impronte e tendono a cambiare colore, nulla che un panno morbido non faccia sparire, ma nell'utilizzo senza custodia non è la cosa più bella del mondo, ma per gli amici ciò avviene un po' in tutti quanti i dispositivi che utilizzano questo materiale. Anche il mio smartwatch Huawei soffre di questa cosa, anche se su questa colorazione, devo essere sincero, non è molto evidente. Sulla scocca, nella parte sinistra, troviamo il tasto programmabile con diverse opzioni, anche se controllerò meglio e ve ne parlerò nella recensione vera e propria, non mi sembra, possa essere configurato con pressioni diverse dal singolo tocco, anche utilizzando la versione 18.1 destinata, cari amici, per adesso al pubblico che ha aderito al programma developer beta. Se fosse così, è un po' una pecca e non ne capisco il motivo. Tastazione introdotto con i modelli pro della serie 15, che ora è stato adottato da tutta la serie 16. Sempre parlando delle modifiche evidenti, è stato introdotto il nuovo tasto per il controllo della fotocamera, un nuovo pulsante con feedback aptico davvero fantastico, posizionato sul frame laterale destro, utile per richiamare la fotocamera, scattare foto, avviare la registrazione di video e controllare gli strumenti dell'applicazione, come esposizione, profondità, zoom, fotocamera, stili, tonalità. La sensazione facendo un minimo di test è quella che se lo smartphone è utilizzato in ambito video o foto a livello professionale possa dare un surplus in più per avvicinare il più possibile l'esperienza a quella di una fotocamera. Il mio pensiero è sempre lo stesso, chi acquista un iPhone Pro e non è un utente che per lavoro lo utilizza veramente, tipo fotografi, content creator, video amatori, lo fa solo per moda e a mio avviso è sprecato per messaggiare, inviare email. Per scattare qualche foto da pubblicare sui social basta un iPhone 13 o se si vuole un modello più recente un iPhone 15 in promo o proprio se ne possiamo fare a meno viste le colorazioni molto gradevoli anche un 16 standard un 16 Pro è davvero sprecato. Parlando di fotocamera la disposizione delle camere è tipica dei modelli Pro il sensore principale che rimane da 48 megapixel quello ultra grandangolare passa da 12 a 48 e il telebiottivo rimane da 12 megapixel ma abbiamo diverse novità. una su tutte il trattamento antiriflesso poi lo zoom ottico passa dai 3x della precedente generazione ai 5x funzionalità in precedenza destinata solo al Pro Max altra novità sia in merito alla registrione video i microfoni sono migliorati ora sono 4 e offrono un sistema di riduzione del rumore del vento e la funzione Mix funzionalità vista nella presentazione che non vedo l'ora di provare sinceramente sotto questo punto di vista il 15 Pro non mi aveva entusiasmato vi è introdotta poi la possibilità di registrare in Dolby Vision fino al 4K ai 120 fps il 15 Pro si fermava a 60 per quanto riguarda la fotocamera frontale il sensore dovrebbe essere uguale a quello dell'iPhone 15 Pro e ho notato almeno magari a fugaci miglioramenti di sorta quando dunque stiamo parlando sempre di un sensore al top altra novità poi è il nuovo processore sempre e solo per i modelli Pro stiamo parlando del A18 Bionic Pro sotto questo punto di vista una miglioria relativa anche perché già il 17 Bionic era un mostro di potenza ma sicuramente questa velocità di calcolo in più sarà d'aiuto non appena Apple Intelligence sarà operativa in Italia la data è fissata per il 2025 ma mese e giorno non sono stati comunicati processore che si porta in dote anche il supporto al nuovo e velocissimo Wi-Fi 7 lato batteria come di consitudine iPhone non rilascia molte specifiche dice semplicemente un molto professionale e fino a 27 ore di riproduzione ma i numeri dichiarati sono superiori al suo predecessore comunque un piccolo aumento nelle dimensioni c'è stato infatti siamo passati dai 3.274 mAh dello scorso anno ai 3.355 di questo iPhone 16 Pro poi vi dirò se sono sufficienti per permetterci di arrivare a fine giornata e se c'è un aumento reale dell'autonomia anche se visto il display più grande io i miei dubbi ce l'ho display anche qui miglioramenti visibili non tanto nel pannello che rimane sempre un super retina XDR OLED dove si passa da 6.1 a 6.3 pollici mantenendo gli stessi livelli di contrasto 2.1 e di luminosità di picco 2000 nit in esterno ma piuttosto nella luminosità minima che ora può scendere fino a un nit oltre che ai bordi davvero molto striminziti la risoluzione poi ora è di 2622 per 1206 abbiamo la question display 8 giga di ram e soliti tagli di memoria che vanno da 128 giga a 1 tera per quanto riguarda la protezione dello schermo troviamo la solita ceramic shield ma dovrebbe sempre stando ai dati dichiarati essere più resistente rispetto alla precedente generazione vedrò qualche drop test poi vi dirò nella recensione completa altra miglioria degna di nota è l'aumento della velocità di ricarica wireless che passa dai 15 ai 25 watt a me la ricarica wireless di apple piace molto di più di quella del mondo android il mic save e tutt'altra cosa anche se pure i 25 watt a mio avviso sono pochi per quanto riguarda la velocità cablata non ho avuto modo di provarla ma lo farò nella recensione si parla di 45 watt non ci sono notizie ufficiali ovviamente questi 45 watt applicatori ufficiali che si fermano a 30 watt valore questo di 45 watt che è plausibile visto anche l'aumento della velocità di ricarica wireless ma sulla scatola nel nostro iphone 16 pro riporta da 4.5 a 23 watt che se fosse così sarebbe un passo indietro infatti gli iphone 15 pro avevano la ricarica compresa tra 27 e 29 watt il prezzo poi uguale a quello dello scorso anno 16 pro nel taglio da 128 gigabyte bene cari amici un overview di questo 16 pro ve l'ho data ora mi tocca testarlo a dovere non appena l'avrò fatto vi porterò un video dedicato e accurato come sempre parlando delle novità introdotte e paragonandole anche al mondo android menzionando ad esempio la ricezione telefonica il gps le app in background e un sacco di cosine del genere cose di cui cari amici nessuno vi parla perché sembra che l'iphone sia come la mamma non si può toccare e a me da recensore questa cosa non mi piace neanche un po' ora cari amici io vado a godermi questo 16 pro e ancora se questa colorazione desert titanium mi piace non l'ho capito a me sembra a tratti rosa vabbè ve lo dirò presto ciao 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 Grazie a tutti.